Si stima che nel 2022 le aziende abruzzesi pagheranno 800 milioni di euro in più rispetto al 2021 e al 2020 per far fronte al caro bollette. Per dirla con un gioco di parole, gli imprenditori sono praticamente alla canna del gas. A denunciarlo è Confindustria di Chieti Pescara, che con il direttore Luigi Di Giosaffatte analizza il pericoloso scenario che si sta delineando per le imprese abruzzesi. Il nostro centro studi ha portato avanti uno studio proprio aggiornatissimo che ci dimostra che su una media azienda noi abbiamo già un aumento del 217% dei costi energetici, costi che sono insopportabili. Quindi fino ad oggi le nostre imprese hanno cercato di fermare gli impianti attingendo la cassa integrazione e questa purtroppo non sarà più possibile in autunno e quindi pensiamo che ci sia una preoccupante ricaduta sulla occupazione del nostro territorio. È un problema tutto italiano ma qualcosa si può fare sia a livello regionale che a livello nazionale. Cosa si può fare? Noi chiediamo alla regione che si faccia parte attiva, abbiamo fatto un appello ai parlamentari abruzzesi perché intervengono sul governo e sull'Unione Europea per approvare questo regolamento che fissa il prezzo massimo dell'energia elettrica. Non è possibile che nel 2022 una situazione così grave per alcuni paesi membri che non vogliono in qualche modo questo tetto al costo energetico, noi sopportiamo questa situazione grave, gravissima. A livello regionale abbiamo chiesto anche di procedere immediatamente allo scorrimento del bando Porfers sugli impianti rinnovabili per cominciare ad attingere da risorse energetiche rinnovabili. Ci sono state più di 300 domande, queste possono essere tranquillamente, i nostri imprenditori sono già pronti per fare questi investimenti, la regione potrebbe andare a scorrimento. So che se ne sta occupando e poi chiediamo che ci siano nuovi bandi sulle energie rinnovabili. Il quadro italiano dunque è questo con questi aumenti dei costi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio le imprese, a fronte di tutto questo c'è anche una sorta di concorrenza dell'estero con costi inferiori rispetto ai nostri? Certo, sono scelte fatte più di 30 anni fa, probabilmente oggi ne paghiamo le conseguenze, ma l'importante è che tutti gli stati membri siano con un vincolo solidaristico, quello del 57 del Trattato di Roma. Quando c'è da venire incontro a un paese che è il secondo paese manifatturiero d'Europa, secondo solo alla Germania, la Germania ha gli stessi problemi di costi energetici dell'Italia. Siamo le due piattaforme manifatturiere più grandi dell'Europa. Se l'Europa è un'entità unica, queste piattaforme devono essere preservate. Grazie. Grazie. Grazie.